Le bellissime immagini che state vedendo si riferiscono naturalmente a una ricostruzione artistica di una nuova scoperta effettuata utilizzando il telescopio ALMA. Un team internazionale di astronomi ha effettuato le prime osservazioni sulla formazione di due pianeti gassosi attorno alla stella HD 142527. Si tratta di una stella giovane in termini astronomici, ha un'età di circa 2 milioni di anni e dista dalla Terra 450 anni luce. La stella HD 142527 è circondata da un disco di polvere cosmica, ciò che rimane della nube dalla quale si è formata la stella. Sono state individuate nubi di polvere che attraversano lo spazio vuoto nel disco. Gli astronomi che hanno effettuato lo studio ritengono che ci sia un pianeta in formazione che causa ognuna di quelle nubi. I pianeti stanno ancora crescendo grazie al materiale che assorbono, ma parte di esso finisce invece nel disco interno e va a crescere la stella, perché anche essa si sta ancora formando. Il telescopio ALMA non è ancora stato completato, ma è già entrato in funzione nel 2011. Nei prossimi mesi tutte le sue 66 antenne dovrebbero essere attivate, perciò in futuro possiamo attendere di ottenere maggiori informazioni sui pianeti che formano questo sistema. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.